Per la scelta del nuovo presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diani Alburni, parte la petizione con un nuovo nome lanciato dal Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania. Per i pentastellati vallesi il nome giusto è il sindaco di San Mauro Cilento, Giuseppe Cilento. In attesa che si concretizzi l'annuncio arrivato all'indomani delle elezioni regionali di dimissioni dell'attuale presidente in carica, Pellegrino, che aveva da subito annunciato di lasciare il posto alla guida dell'ente, che ad oggi non è ancora arrivata, Il Movimento 5 Stelle vallese si fa promotore della proposta per indicare il nuovo possibile presidente dell'ente Parco, puntando sul sindaco di San Mauro Cilento ed avviando addirittura una raccolta firme per portare la proposta al ministro dell'Ambiente Costa, che sembrerebbe non intenzionato ad un possibile incarico protempore da affidare all'attuale vicepresidente, Cono Delia. Nella nota d'invito a sottoscrivere la candidatura di Giuseppe Cilento, la sua figura viene indicata come edonea per una serie di caratteristiche proprie della persona, quali discontinuità con le precedenti amministrazioni, persona del territorio profondo conoscitore delle dinamiche del Parco, uomo del popolo esperto di agricoltura e biodiversità, uomo della terra che ha a cuore l'ambiente, persona che, a differenza di chi lo ha preceduto alla guida del Parco, potrà dedicare tutto il suo tempo al rilancio del territorio, uomo non legato a simboli di partito da cui dipende per scelte e giustificazioni delle sue attività, e inoltre viene anche indicato come un innovatore. Il nuovo presidente del Parco, dichiarano i pentastellati, dovrà avere una serie di caratteristiche indispensabili per valorizzare appieno, come non è mai stato fatto, il nostro territorio. Per questo, come gruppo di minoranza del Comune di Vallo della Lucania, proponiamo Giuseppe Cilento come nuovo presidente dell'Ente. A tal fine, continuano, abbiamo una raccolta firme tra le persone di tutto il territorio del Parco, che consegneremo direttamente al nostro Ministro dell'Ambiente Costa, che in accordo con la Regione provvederà alla nomina. A nostro avviso, concludono, nessuno sarebbe più indicato nel ricoprire questo delicatissimo ruolo.